Let's go Bitches Come vedete sono felicissimo Perché sono felicissimo Perché mi sono arrivati i cappellini della bar controllers No non è vero una cazzata questa Sono felicissimo perché Oggi è il reset day E martedì Oggi c'è di tutto Oggi ci sono i calalalotte Li ho già fatti Oggi c'è il ride Li farò ora in streaming Oggi c'è No non c'è niente di che giornaliera Niente Scherzo cazzo Oggi c'è lo standard Oggi poi arriva Tess Averis Che venderà una marea di roba figa Quindi ho già Speso i soldi Dove sta il mio portafoglio? Dove sta? Li lancio pure il cellulare Vedi questo? Questo ti è Prenditelo Tess Averis Te do tutto Mi devi da tutto cazzo A parte gli scherzi Bitches oggi partirà un mega super hyper ultra mega streaming Che partirà da oggi Fino a martedì prossimo Basato principalmente sul pvp Oggi vabbè farò anche un po' di ride Alle 7 si parte con lo standard Con il super team Dai Feral Blood Pronti per cercare di salire Prima di tutti E prendere l'equipaggiamento migliore Cercare di capire qual è l'equipaggiamento migliore In quello che sono le partite pvp Senza i vantaggi di livello Cioè anzi no Non senza Con i vantaggi di livello Quindi io vi saluto Bitches Ci vediamo tra pochissimo streaming Il tempo che vediate questo video Mi trovate live su twitch.tv Slash Power TV E vi saluto Bitches Ciao 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 Ciao